Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questo secondo video della Season X Chris fallo anche tu, dai Non la trova, non la trova Muoviti Fallo Fallo Sono inoltre alfabetico, Chris Eh vabbè Ragazzi è uscito il video sul pass battaglia Dove tra le altre cose c'era questa emoticon molto bella Adesso faremo il video dove Vedrò per la prima volta, loro l'hanno già vista ma io no La mappa di gioco, non so nulla a parte che c'è probabilmente la cometa lì Quindi è tutto blind, andiamo a fare una reaction a vedere che cosa hanno aggiunto Come facciamo a vedere le cose se siamo in blind? Ma ho i pantaloni di Off-White, ma stiamo scherzando Codice creatore Ernesto fiammata Cosa? Yes Che è quella roba? Un attimo È il meteorite Ma raga c'è un robottino nella mappa Quella è la reaction del mecha Andiamo Scusa Andiamo la cometa Andiamo la cometa? Ah puoi atterrarci sopra Quindi andiamo sopra E rimbalzati sopra come se fossi sotto un movimento di impulso Se ti ricordi le pietre In season 4 che tu le mangiavi E rimbalzati Stessa cosa Ma io posso tipo andare nel fumo Penso che sì Cioè in quel momento ci passi attraverso Non puoi raccogliere niente Non vorrei rischiare Sono dentro il fumo della meteora Sono atterrato sulla meteora In questo momento Seguimi E c'è tipo una gravità tutta strana Dove sei Chris? Siamo qua sotto Vieni qua Alla tua destra Ok salve Venghi venghi qua Venghi venghi qua Ok Ragazzi cosa c'è? Guardi là dentro cosa c'è È la capsula Del visitatore che è uscito già però Esatto Sì è uscito stagioni e stagioni fa Ma l'epoca non era ancora uscito Bellissimo vero? Sono un attimo estasiato da sta cosa C'è altro dentro? Dentro no Dentro è tutto qua La dico il visitatore Comunque l'ha già aperta la capsula È già uscito In questo momento Stranamente Sì sì Effettivamente è strano Cos'è quella roba là? Ci sono degli alberi rossi? Sì Sullo scheletro Un enorme glifo gigante Sullo scheletro Ah sì laggiù Non l'ho visto quello Allora vabbè Magazzino Muffito che è tornato Mi stende abbastanza Come cosa Non so come Cioè è proprio Sono le prime season qua È uguale Sì è uguale E sono tornate anche le fabbrichette qua sotto Dove? Perché c'erano le fabbrichette Vicino a magazzino Muffito Tra magazzino Ah sì sì questo Ho visto scendere delle meteoriti Quelli sono i mecha Quelli sono i mecha Ah sono i mecha? Che droppano dall'alto? Sì sì Droppano dall'alto Attenzione Ok Andiamo a magazzino? Sì Che bello Che bello Che bellissimo Ti dirò la verità Di questo sono contento Tra tutti i posti che potevano ripristinare Magazzino è quello che forse mi interessa di meno Perché a me piaceva il divot Paceva il cratere Allora il cratere in effetti era fico Perché è là il punto? E lì ci sono gli overboards Se vogliamo muovere Tutto qua Lo sogno come punto di riferimento Però aspetta Cioè una cosa che non mi aspettavo mai nella vita È che sia a grandi magazzini Che a neopinnacoli Hanno mantenuto Le Gli stream Com'è che si chiamavano? Sì le slipstream La corrente Chiamiamola come vuoi A me stende questa cometa Messa lì così Sinceramente Diciamo che se È ingombrante È abbastanza grande che Se cadesse sul serio Non farebbe solamente quel cratere Cioè se fosse realistico Distruggerebbe tutto Allora cioè Io cerco un attimo di vedere la mappa Perché A prodo, lande Palmetto C'è tutto È Rifugio ritirato Praticamente non è cambiato molto Scalini scatenati Impianto a pressione È tornato chiuso Sicuramente ci saranno dettagli cambiati Tipo spiagge snobbe no? E la Tipo stata conquistata dai vichinghi Che ne è stato di tutto ciò? Ed è ancora conquistata dai vichinghi La nave dei vichinghi È ancora lì Io mi aspettavo che Con l'estate si sciogliessero Le nevi E tutto quanto Invece c'è ancora tutta la zona innevata Era non Era non Simo Aspetta Guarda No vabbè Ti prego Ti prego E noi che volevamo la zona acquatica Perché lamentarci Dico io Ma No dai Ti prego Ti prego che sto facendo allenamenti C'ho le addominali rotte Mi fa ridere Ed è doloroso Aspetta ma tu sei nel pubere No basta basta Va bene così Grazie Me ne fado Allora Simo Comunque tornando un attimo alla mappa Prima di provare il meca Ma quel coso vola Si Puoi fare una sorta di jump potenziata Ti ricordi la modalità di Thanos Stessa cosa Stessa cosa Ti carichi Comunque Simo Guarda a livello della mappa Seguimi a sinistra Stavo andando verso Loot Lake in realtà Guarda Ci sono alcuni punti in cui ci sono delle mini scintille Come se fossero le crepe e i rift che si stanno creando in questi punti Allora E sono sparsi attorno alla zona su cui è proprio il cratere Io voglio dire una cosa Così com'è la mappa mi delude profondamente Non è cambiato nulla Cioè è cambiato davvero pochissimo al centro La zona in alto a sinistra potevano rifarla completamente E non hanno fatto nulla Passiamo un attimo Ah è il meca che spara cose Si è Chris Sto provando il meca ed è What the fuck Vado un attimo qui allo scheletro Che voglio vedere cosa è successo Ci sono degli alberi Rosa Figata Belli Ma che bel posto che è Non capisco perché ma fico Ah è tipo ne sono nati Cioè questi fiori colorati dal sangue del mostro Come la devo interpretare Oppure semplicemente ha fertilizzato tutto questo posto Eh si si direbbe Però pure non è cambiato nulla Cioè ha colorato un po' in giro Quindi i segni che vedevo nella mappa erano fiori in realtà Pensavo fossero tipo Tipo pitture di qualche culto dello scheletro Io pensavo invece avesse a che fare con Kevin in qualche modo Ah Sì effettivamente Che magari avendo colpito il Nexus Magari aveva assorbito qualcosa e aveva rilasciato adesso tutto quanto Ecco a Loot Lake c'è tipo una mega cupola di roba Ah Lì c'è stata l'esplosione a quanto pare È rimasto una sorta di campo di forza Che sia un campo di gravità Sì guarda anche qua si è bloccato tutto Cioè si è bloccato il tempo Ma sai che ho come la sensazione Che nel corso della season vedremo molte alterazioni alla mappa Esatto Perché se è tutto questo così fermo È probabile che si muova e che cambi durante la season È quello che volevo dire A cui volevo arrivare Perché allora se dobbiamo pensare a una season con questa mappa Ti dico guarda è la più grande delusione di sempre Probabilmente Sì Ora come ora sì È figo vedere la cometa lì ma Cioè basta Esatto È solo estetica Vediamo qua la gravità Non riesco a capire dove scendere dall'overboard Probabilmente sì Sì c'è la gravità bassa C'è la gravità bassa La sfera è ancora lì Ecco Vedi la sfera non è ancora esplosa Sta per esplodere Sta per esplodere infatti Quindi non ha ancora agito sulla mappa O più che stanno poi andando sotto la sfera Mi dà fastidio questa cosa Allora tra l'altro la sfera sta Gettando elementi Della mappa in giro Tipo alcune cose le ha sollevate Ma Credo che Sono tutti i camion Che stia sprappagliando pezzi in giro di qualcosa In realtà secondo me sta semplicemente cacciando Cioè le cose che erano qua Uno le sta rimbalzando Le sta rimbalzando via Sì secondo me La season così com'è È altamente deludente E non capisco il senso di questa mappa La mappa neanche io Penso che Penso che l'abbiano studiata Giusto per Modificarla durante il corso della season Come stavi dicendo anche tu Ma vabbè Per forza di cose Probabile Perché la cometa potrebbe muoversi Sì E ridistruggere tutto Non lo so E ridistruggere tutto Sai cosa? Secondo me quello no Nel trailer si vede la cometa Che è molto più vicina ai magazzini Quello è vero Così come si vede la sfera che esplode Però effettivamente non vediamo chi distrugge tutto Quindi rimane lì Beh di sicuro è momentanea sta cosa Cambierà Allora Simo Hai presente Le piccole scintilline che ti ho fatto vedere prima? Sì Secondo me ce ne sono altre in giro per la mappa E quei punti saranno quelli Che saranno effettivamente poi cambiati Ma sbaglio o siamo glitchati sul posto? Cioè è glitchato il momento e devi Oh wow 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 Ok fammi provare a muoverlo Tier È baggatissimo Esci e rientra Aspetta Guarda madonna quando l'ha fatto andare indietro Perché ti ha fatto andare indietro? È perché è baggato il mecca Ok ora va Ok da anche calci Sì tipo fa una sorta di impatto E suona Prova a premere cance Sì lo voglio distruggere però Ha vehicle dub brutale Ci sono proprio le moti del veicolo Ah questa è da brutale È che vinci la partita con il mecca E poi fai questo balletto Venga ma io Cioè che cosa ne è delle nostre vite in questo momento? Via Simo corri 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 Tira di Uh Lol Ci è mancato un peccato Potrebbe essere un modo per fare danni Praticamente ricapitolando Magazzino muffito torna C'è la cometa C'è lo scheletrone E la sfera che non è ancora esplosa Diciamo che Non è ancora avvenuto l'evento È avvenuto l'inizio Per succedere qualcosa Esatto Probabilmente Sai che cosa? È agosto È agosto E la gente è in vacanza E giocano di meno Probabilmente potrebbe essere una tattica E poi a settembre con l'inizio delle scuole Bravo Esatto A settembre quando tornerà l'utenza attiva C'è la nuova stagione di ogni cosa Potrebbero decidere di far esplodere davvero E magari cambiare la mappa In corso d'opera Potrebbe avvenire qualche cambiamento drastico Speriamo Perché al momento la mappa è uguale a prima Con qualche dettaglio Ok quindi questo è l'epicentro del disastro Quasi Più o meno Sì Siamo lì più o meno Sono qui ti armi Dimmi tutto Comunque epicentro del disastro Non per quello che entendi tu Allora Avvicinati a Questo bagno Ok Guardalo Cerca Sono buggato tutti quanti gli agenti di quest'area Puoi cercarli Ma non ti danno niente Anche la cassa qua dietro Anche la cassa qua dietro Ma Ma dai ma davvero Adoro la schifania Oddio Anche il cetto La schifania Questo è un fate lamoroso Si è un fate clamorosissimo Da parte loro Ma lo amo Cerca nel lavandino Cosa cerchi nel lavandino Ma stiamo scherzando I capelli che sono rimasti lì Che schifo Cerchiamo i soldi sotto il divano Dai Dai vieni Sto cercando Ma non li trovo Siamo youtuber Supportateci Non ci sono monete in questo divano Guarda in questi cassetti Magari c'è qualcosa Aspetta che provo a dirubare la macchinetta Voglio una coca cola Adoro questa cosa Va bene Ora che abbiamo scoperto La feature più interessante Della nuova mappa Si può costruire dentro la metà Comunque Davvero Appena scoperto Guardate Uff Direi di sì Vabbè io direi che questo video Lo possiamo chiudere E purtroppo non è cambiato un cavolo Quasi niente Sicuramente cambierà qualcosa Durante la season Speriamo Perché Se no Sarebbe tipo Inspiegabile Questa decisione E per il momento Boh Non so neanche cosa dire Non me l'aspettavo Così scarna di contenuti Soprattutto per una season 10 Che dovreva Calcare Proprio un punto di svolta Invece Hanno fatto proprio Questo mashup Di tutto Probabilmente Come finale Di questa storia Non lo so Staremo a vedere Come nuovo inizio Il Ragnarok Il Ragnarok Cado fuor con film